minchia ragazzi questa ha beccato proprio la tromba d'aria in mezzo putrella ragazzi guarda le ha rotte in mezzo le ha spaccate in mezzo mi ha spostato giù anche i sassi le ha rotte in mezzo ma anche nella vallata di là domenica scorsa quella che andava su a coso ha fatto tutto così è una valle metà prima sotto e metà prima e poi in alto impressionante no se no alzarsi perché vedi che la è molto più libero è però non so dove dove finisce poi questo no qua sopra quindi dovete andare indietro dobbiamo fare quello che abbiamo fatto stamattina non c'è un'alternativa andare indietro quindi Grazie.